Allo stadio comunale di Arezzo l'anticipo della decima giornata del Girona in serie C. Arezzo-Alessandria con i grigi che non perdono in trasferta da marzo. Formazione a Maranto con Pissardo che recupera tra i pali. Poi Nolan, Ceccarelli e Luciani in difesa. Belloni, Foglia, Tassi, Volpicelli e Corrado in mezzo. Cutolo e Gori che rientra dalla Nazionale. Dunque un Arezzo che conferma il 3-5-2. Parte Gazzi per l'Alessandria. Velo di Giuseppi, serie di scambi con la palla che arriva poi a Casarini. Che spara sopra la traversa dopo il velo di Pandolfi. Quindi Cutolo, pallone all'indietro. Arezzo che manovra Tassi dalla distanza. Il tiro è altissimo. Arezzo che rinvia corto con i piedi. Palla che arriva di nuovo al limite. Poi la conclusione alta di Chiarello. Qui Arezzo che non è stato preciso nel respingere il pallone. Attenzione a Gazzi. Poi Cambiaso mette in mezzo Peruseppi. Che tutto solo schiaccia. E l'Alessandria in vantaggio Peruseppi. Il quarto gol in campionato. Ancora una volta si sottolinea come i giocatori avversari riescono a trovare una certa libertà. Gazzi che ha toccato tantissimi pallone nel primo tempo serve Cambiaso. Cross e non si spiega come Euseppi sia tutto solo. Luciani chiede il fuorigioco. Nessuno marca Euseppi. Poi Cross di Cutolo. Attenzione c'è questo contatto tra Cosenza e Ceccarelli. Ceccarelli che si lamenta qualche suo compagno anche che chiede il fallo. Sensazione che spingano tutti e due. Arezzo è entrato Caso. Qui servito da Corrado. Caso si infila. Cosenza manca il pallone. Gori! È un gol stupendo per Gabriele Gori. Sono tre in campionato. È soprattutto il pareggio dell'Arezzo al tredicesimo della ripresa. Il primo tiro in porta dell'Arezzo. Qui Caso manda questa palla in verticale. Cosenza la manca e la trova Gori. Qui davvero un grandissimo gol per preparazione e per la conclusione. Alessandra che prova a rifarsi vedere Chiarello. Palla sul fondo. Deviata. Quindi calcio d'angolo. Nell'Arezzo sono entrati anche Pio, Benucci e poi Baldan al posto di Nolan. C'è l'angolo per l'Alessandria di Sulic. Palla dentro d'Ossena. Pissardo. Sul fondo c'è ancora un calcio d'angolo. Attenzione perché sotto porta c'è la presenza minacciosa di Sciacca. Traversa ma c'era fuori gioco. Tutto vano. Tutto vano. Li vediamo. Sul colpa di testa è netta. La posizione irregolare da parte di Sciacca. Siamo al 91esimo. La palla arriva lì al limite. Assartore. Il tico insidioso. La palla va sul fondo. Al 94esimo l'arbitro Enrico Maggio dice che basta così. Un altro pareggio per l'Arezzo dopo quello con il Siena. Sicuramente un pareggio dal sapore diverso. L'Alessandria sicuramente meglio della prima frazione. Diciamo che Gori ha risparmiato all'Arezzo un'altra amarezza.